Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Come vedete nel video di oggi sono tornate le news perché anche stavolta sono tanti gli argomenti da approfondire. Per prima cosa parliamo del fantastico Tata Steel 2022 e di una parte ottima del suo regolamento. Dopo le recenti polemiche sul formato degli spareggi in caso di più giocatori classificati al primo posto, al Tata Steel 2022 per fortuna si cambia tutto. Infatti in caso di più di due giocatori al primo posto alla fine del torneo tutti i primi classificati parteciperanno agli spareggi per il primo posto. Quindi non verrà più usato quel coefficiente Buchholz che tanto ha fatto discutere. Gli spareggi saranno due partite blitz da 3 minuti più 2 secondi per mossa ed in caso di uno ad uno non si giocherà l'Armageddon ma si continueranno a giocare nuove partite blitz fino a quando uno dei due giocatori non farà il punto decisivo proprio come è successo nella finale del mondiale blitz tra Vashelagrav e Duda. Non mancano purtroppo anche a questo Tata Steel le polemiche perché al settimo turno Dubov non ha giocato e quindi ha perso la sua partita contro Anishkiri perché il grande maestro russo si è rifiutato di giocare vestendo la mascherina. Gli organizzatori gli avevano chiesto di farlo dopo che una persona nella sua cerchia ristretta di accompagnatori era risultato positivo al covid-19. Dubov si è sottoposto al test che comunque è arrivato il giorno dopo. Fortunatamente è risultato negativo e quindi dal giorno successivo è potuto tornare a giocare senza mascherina. Certo che questi avvenimenti hanno sicuramente condizionato il suo torneo. E adesso passiamo a dare qualche informazione su Nakamura. In molti mi avevate chiesto come mai non ho fatto vedere le partite blitz di Nakamura ed il motivo purtroppo non è molto bello perché Nakamura che stava giocando bene si è dovuto ritirare dal mondiale blitz all'inizio della seconda giornata perché è il risultato positivo al covid. Fortunatamente non ha avuto nessuna conseguenza degna di approfondimenti. Intervistato online dal grande maestro Benjamin Bok mentre aspettava di negativizzarsi nella sua camera di albergo Nakamura ha spiegato di essersi sentito poco bene appena prima del rapid ma di aver fatto il test e di essere risultato negativo e invece poi durante il blitz si sentirà peggio, risulterà positivo. Quindi veramente sfortuna che non abbia potuto esprimere al massimo il suo potenziale nel mondiale blitz ma credo probabilmente anche nel mondiale rapid. E come ultima notizia del giorno la nascita di un nuovo importantissimo circuito online si tratta del Rapid Chess Championship organizzato da Chess.com con l'importante monte premi di 650.000 dollari totali. Per spiegare come nasce questo progetto bisogna fare un piccolo passo indietro perché a fine dicembre Chess.com ha ricevuto un importante investimento della General Atlantic che è una delle principali società di crescita azionaria nel mondo. La General Atlantic è una grande società di investimento che crede in società più piccole incentrate su communities quindi proprio come Chess.com Infatti loro sono grandi investitori già in Duolingo, TikTok, Airbnb e molti altri. Chess.com che vuole continuare a crescere perché mai come in questo momento così tante persone giocano, guardano e si divertono con gli scacchi e quindi come primo nuovo progetto ha annunciato la creazione di questo nuovo circuito online che si contrappone naturalmente a quello di grande successo già creato da Karsen e dal suo portale Chess24. Il Rapid Chess Championship, quello di Chess.com, inizierà il 12 febbraio ed andrà avanti tutti i fine settimana per 25 settimane fino alla finale del 28 agosto. Sarà comunque un torneo molto flessibile come orari per far giocare tutti i big e infatti sarà un torneo per soli top players sono invitati i primi 100 del mondo, le prime 10 donne ed i primi 10 giovani poi naturalmente dovremo aspettarci alcune defezioni come per esempio quella di Karsen il formato sarà quello più popolare su Chess.com ovvero 10 minuti per giocatore senza nessun incremento per mossa un formato popolarissimo ma mai usato ad alti livelli quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se questo nuovo circuito attira il vostro interesse già adesso sappiamo che molti dei migliori parteciperanno ad esempio Karuana, Anishgiri, lo stesso Nakamura, Wesley So, Vashila Grav, Aronian e tanti tanti altri come al solito vi lascio il link a queste notizie che vi ho raccontato nella descrizione sotto al video le notizie per questa puntata finiscono qui e noi ci vediamo domani con un nuovo video a presto